simulacro il nucleo interno dell'oscurità oggi sicuramente sarà una bella giornata vado dal mio maestro meglio stare a me salve mio maestro salve Dio della luna come va tutto bene? si si per la buona sera del mio potere va bene ma tu ti devi grandire sei ancora a 800.000 e come te Dio non può essere a 800.000 devi lo so che devo aumentare Dio non lo so ciao ragazzi questa è la voce d'Arrante come sempre questo è l'episodio della storia di Yosef quindi un Easter Egg di Yosef dovete sapere, piccolo spoiler uscirà la nuova stagione di Katana del Dio che sarà ambientata in un luogo completamente diverso e da personaggi anche un po' diversi ovviamente dallo stesso Yosef ma altri personaggi che saranno diversi tranne alcuni piccolo spoiler i video della Katana del Dio stagione 3 usciranno su due canali il canale di Iron ovvero questo canale in cui sto pubblicando questo video è un altro canale perché possiamo vedere entrambe le come posso dire entrambe le visuali ovviamente non vi spoilerò niente ma se volete andare a vedere la visuale di Yosef andate sul canale che si chiama Giuseppe con la G grande 188 staccato quindi ragazzi io vi consiglierei di andare perché poi un giorno pubblicherò pubblicheremo cioè pubblicheremo entrambe la stagione 3 di la Katana del Dio non ho niente più niente da dirvi e buona visione tu Yosef vieni con me maestro ma io ho un po' paura di cosa sa di me? si sa lei è un dio supremo non deve avere propura se ha paura dell'avversario sarà peggio ma non ho paura mai dell'avversario ho paura solo di lei e io ho la stagione avversaria quindi ma dato che lei è il mio avversario non dovrebbe essere un po' meglio stai tranquillo stai tranquillo non utilizzerò mai 100% contagi di te ma io ho sempre comunque paura tranquillo è troppo tenziare quindi il nostro scontore inizierà Yosef devo dire maestro che ho un po' un po' di paura basta con questa paura ma io ho sempre paura tu sai il dio della scuola giusto il tuo futuro del suo figlio supremo è questo che dice la dinastia esatto la dinastia supponchia che i demoni saranno uccisi ma oltre non va dobbiamo aspettare non si sa che vi citerà tutti io direi di iniziare si di io della luna 20% è scelta colporea mi diverti sei scarso molto scarso non ho ancora iniziato ti ricordo vai con il cattato colpi che attraversano ogni persona abilità delle pistole me mi ricordo questo le fulgiate insieme a me prima prima una scura palazzo della sera prima 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 mare di nuvole è faschea mi piace eeeh dove stai ti vedo anche io sono stata anche in casa beh se vuoi io sono dell'oscurità ti vedo lo stesso caro maestro è vero è vero su questo non ci avevo pensato sei debole sei debole SHIFT mi eserci mi eserci non c'è troppo questo secondo katah respirazione dell'oscurità oscurità 8 stradi SHIFT SHIFT 6 7 50% Blocco Katami, manca solo l'ottavo Bloccamento della persona Immobilità 100% 8 Forma Ho usato l'ottavo strato E non le ho fatto niente, è strano E lei è molto forte Di generazione 4 diciamo Katastrofe Terni Scravato Sicuro Sei troppo debole Sei troppo debole Scopo di caldato Sai Devi imparare a utilizzarlo E' il mio E' il mio katastrofe Ma Rengoku A quanta potenza è arrivata? Rengoku Rengoku a 500 milita Dijia Oddio Ok Espirazione Dell'oscurità Terzo katà Nebbia spargente Nono katà Fascinari Caratici Schifato Devo aumentare la mia velocità Per schifare il più colpi possibile Devo diminuire la pressione nel corpo Il flusso sanguino Deve andare perfettamente Con il battito cardiaco Non devo andare a soffocamento Potrei anche morire Se vado troppo a soffocamento Le mie arici se ne risentirebbero E i miei polmoni vale lo stesso Lui è di la velocità che mi sto muovendo E il mio 90% Di katana e velocità E la vedi la velocità con cui mi sto muovendo? E solamente il 0,1% Perché ora Time out Abilità Che si sblocca ogni 3.000 anni Respirazione dell'oscurità Settimo katà Ogni 3.000 anni Quando è nata l'oscurità Si ricorda Lei è nata Più di 3.000 anni fa Quindi Respirazione dell'oscurità Settimo katà Nubi Ascolanti Questo è il mio ultimo katà Il più forte Un bel vittaglio del secondo Io non serve Non basta Devo tenere il time out Ottavo katà Ottavo katà Nuna Tlavo Intanto Il tuo attacco Non mi fa muovere bene più l'acce Ho tipo degli spassi Mi sento male Tu ti senti male E io Io De più Ti ho 3 Ti ho 3 Nel mentre che tu Mi Attaccavi Ti ho lasciato un pezzetto Della mia lama Sul tuo corpo Esplosione Esplosione Dell'oscurità Mi dispiace Mi dispiace Io il tuo punto debole Lo so Che non sei mai stato paragonato Al dio del sole E sei sempre stato paragonato Inferiore a lui Poiché è nato Secondamente Tutti i miei katà Voletevi Mi fatti volete Era quello che volevo Perché ora Time out 100% Time out Bloccamento Dio della luna Mi dispiace Dio della luna Ma ora Respirazione Dell'oscurità Ottavo Cato L'oscurità Totale La devo colpire In ogni modo Basta con quella rigenerazione Non puoi andare avanti Rigenerandoti Peccato che io ti ho mentito Non sono A 800.000 Sono a 1.150.000 E tu devi sfidare Galaxy Eh sì ragazzi Sono sempre La voce narrante Questa non è Proprio dall'inizio Ma è Verso l'ultima parte Della storia di Joseph Dato che Nella prima parte Beh la sua vita Non è stata Delle migliori Quindi ora Lo scontro Di lui Con il dio della luna In un mondo Che È quello di Rengoku È perché Ci sono stati molti scambiamenti Tra mondi di Rengoku E Quelli di Joseph E vabbè E ora non è meglio Spiegare Godetevi ancora La scena Tu Impossibile Ti rassone Fratello Ti invoco Ascoltami Joseph È arrivato A 1.100.000 Cosa Joseph Ma che È possibile Taglio Della testa Morte Senza Dolore No Io Non fa Il ballo A C'è La 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 Giù Ti Sì Io Giù Vai Ma Stai Dai Un bambino Ho detto il mare Cioè Ho detto Perché Io Perché mi hai sempre Sottovalutato Ho voluto mostrarti La mia potenza E ora taci Perché per me non sei nessuno Potete Bene ragazzi Questa è la fine Dell'episodio E la fine Della morte Più o meno Morte Perché in realtà Lui non è morto La nutella Porco Poi E Zitti Dicevo Allora Praticamente Lui non è Porco Non è Non è